E segnalo alla vostra attenzione che in questo libro ci sono presenti due eminenti studiosi del Caravaggio, dei nostri tempi, questo si ricava dal libro di Sara e di Michele Cuppone perché ho introdotto il discorso dicendo ma c'è un altro grande studioso qua dentro, è Michele Cuppone. Michele Cuppone ha scritto nel libro, tra l'altro con modestia e con l'affetto del vero amico, ha donato a Sara e a noi studiosi una decina di pagine che sono, permettetemi di dirlo, tra le più belle biografie mai scritte sul Caravaggio. documentatissima, filologicamente ineccebibile e tra l'altro recante, una delle più grandi scoperte che questi giovani studiosi hanno fatto sul Caravaggio, cari amici di cui si è parlato tanto in questi giorni. sapete ieri c'è stata, proprio ieri c'è stata a Palermo la relazione della commissione antimafia che ha concluso le sue indagini sul furto della natività dell'oratorio di Palermo rubata nel 1969, quando né Michele né Sara erano neanche nati e scomparsa nel nulla e poi scomparsa nel nulla lo stesso. Però la commissione antimafia ha creato una relazione brillante dando retta a alcuni di questi mafiosi che sono veramente dei personaggi. Ecco, a proposito del vero, i mafiosi sono dei culturi del vero perché in ogni caso ti danno tutte le versioni di qualunque evento. Per cui dice, ma è vero, è certo che è vero, dice ma come l'avete distrutto, mascalzoni farabutti insensibili all'arte. E alcuni dei mafiosi, sì effettivamente è vero. E un altro ha detto, ma veramente no, l'ho venduto in Svizzera, ho fatto un sacco di soldi, l'ho tagliato in 4 pezzi, ma insomma è conservato, è vero, questa è la verità. Ed è meraviglioso, e sembra veramente di leggere quei testi di Pirandello della commissione antimafia, che dice, no, in effetti abbiamo scoperto la verità. Vediamo, qual è? No, abbiamo scoperto la verità, è una cosa interessante. Allora, praticamente, questo libro è gravido di questo semplicissimo e sublime concetto, la verità. Perché? Adesso uno potrebbe dire, avete sentito qual è la tesi di Sara, che poi non è l'unica, perché questo libro non indaga soltanto sul fatto di chi è veramente Matteo nel quadro memorabile, è certamente supremo, questo va detto. Perché poi tutto questo accanimento sulla vocazione di Matteo del Caravaggio, accanimento a parte di tutti, di Sara, mio, quando studiavo il Caravaggio, di tutti gli studiatori del Caravaggio. Cioè tutti gli studiatori del Caravaggio capiscono una verità, che quel quadro, nella produzione stessa del Caravaggio, è un'opera eccellenza e sensazionale. Michele Cuppone ha messo un tassello formidabile su questa ricerca, perché ha dimostrato che non è vero, e questo è una verità interessante. Secondo la tesi di Michele, già illustrata in vari suoi articoli e poi sviluppata sicuramente in successivi, non è vero quello che noi tutti abbiamo detto, diciamo che la vocazione di Matteo è la prima opera sacra pubblica del Caravaggio, è un dogma storiografico, invece lui ha dimostrato che non è vero, è la natività di Palermo, la prima opera pubblica del Caravaggio, perché? Attraverso un ragionamento che è molto verosimile. Perché il problema è che si parte da un famoso documento, adesso non voglio ingombrare il discorso, c'è un documento, noto agli storici dell'arte da sempre, in cui un certo Fabio Nuti o De Nutis incarica Caravaggio di dipingere un quadro con Figuris e dice le misure più o meno, cioè questo quadro con Figuris deve essere alto due metri e passa, e poi può essere largo un metro e settanta, un metro e ottanta, incredibile, però nel documento c'è scritto questo. Come mai questo signore dà un incarico al Caravaggio e non sa nemmeno esattamente le misure del quadro? Gli storici dell'arte non ci hanno fatto caso, per decenni, inoltre non dice che rappresenta, con Figuris, capirai, cioè quello che ti pare. E quindi in effetti, oh, e questo quadro è scomparso, non è reperito, però è stato fatto, c'è il contratto, e quindi tutti gli storici dell'arte, questo è uno dei grandi misteri caravaggeschi, tutti gli storici dell'arte hanno detto, ma quale sarà questo quadro con Figuris? Allora uno ha detto è quello, è quell'altro, è la deposizione, non lo so, Michele, andando in controtendenza, ha detto una cosa che è sensazionale, ha detto, no, è il quadro di Palermo, ma come il quadro di Palermo? Il quadro di Palermo sta a Palermo, il NUTIS dette l'incarico al Caravaggio nell'anno 1600, mentre Caravaggio a Palermo ci è passato nel 1609, non può essere il quadro di Palermo, gli hanno obiettato, non è verosimile, e infatti è vero, guarda un po', e quindi questa cosa è molto interessante.